Abbiamo avuto questo problema, questa difficoltà e siamo arrivati in un altro paese dove ci sono altre regole anche e noi dobbiamo seguirle, perciò abbiamo deciso di fare vaccinazione perché vogliamo trovare un lavoro, portare i bambini a scuola e questo secondo me, anche secondo la mia famiglia, sarebbe utile fare questa vaccinazione. Siamo dai prati, ci hanno dato delle stanze e ci aiutano a trovare adesso un lavoro, la scuola e a sistemarsi qui a Palermo. Voglio ringraziare a tutti voi che ci aiutate perché quando siamo arrivati qui tutti subito le persone che portavano i vestiti e anche il cibo, voi che avete dato la possibilità di avere tutte queste vaccinazioni perché anche secondo noi è importante fare per tutti noi, per essere tutti sani.